buongiorno a tutti buona e santa domenica da parte mia a tutti quanti voi forse ci siamo svegliati con un po di sonno abbiamo dormito un'ora in meno però ecco il buon dio ci ha regalato una splendida giornata c'è il sole che splende che illumina la nostra vita ma c'è un sole che splende ancora più forte che illumina la nostra interiorità che la parola di dio in questa quinta domenica di quaresima la liturgia ci propone l'episodio del ritorno in vita di lazaro capitolo 11 del vangelo di giovanni versetti 1 e 45 che vi invito a leggere veramente con attenzione e profondità d'animo bene solitamente noi utilizziamo per lo meno sento dire spesse volte non siamo che un soffio non siamo che un fiato bene la parola di dio di oggi ci fa pensare sì alla morte ma ci fa pensare anche oltre ecco perché questa mattina vorrei parlarvi dell'alito delle alite l'alito sappiamo e un fiato e un respiro che noi abbiamo e certe volte di fronte alla sofferenza il mistero della morte quando vediamo la nostra impotenza ecco la nostra affermazione che vogliamo fare non siamo che un fiato non siamo che un respiro ecco cosa ci succede ma l'alite chi è l'alite è un rospo è un rospo ostetrico e dopo l'accoppiamento con il rospo femmina e cosa fa questo maschio avvolge nelle sue zampe inferiori posteriori le uova che sono state donate dalla donna e queste uova lui le tiene talmente conservate le tiene con sé le protegge sono avvinchiate alle sue zampe posteriori fino a quando queste uova poi non dischiudono vanno nell'acqua e quindi questi rospi crescono fondamentalmente bene io vorrei pensare al mistero della morte sì come qualcosa che avviene dalla nostra esistenza però c'è qualcuno che da questa morte si è attirato fuori dio ci tiene avvinti a sé ci tiene stretti a sé non ci vuole lasciare andare meno nel balia della morte ecco perché l'immagine che trovate qui dietro che forse non riuscite bene a vedere se la prendo ve la mostro ecco è tratta proprio di gesù che tira fuori dal sepolcro lazaro lazaro felice che ha le sue bende sì però è contento perché solo e soltanto chi è andato in montagna conosce bene la strada può fare da cicerone e può rendere il nostro cammino sereno e tranquillo il signore gesù ha vissuto la morte prima di noi e ci ha aperto le porte del paradiso la strada per il regno dei cieli è tracciata quindi noi siamo sicuri e tranquilli che seguendo lui noi andremo in un posto bellissimo in una strada che la strada che percorriamo seguendo lui sarà una strada sicura ecco perché il signore ci chiede di credere in lui come lo ha chiesto a marta chiede anche a noi di credere in lui che la resurrezione è la vita ecco perché la tua vita ci salva dalla morte ecco vorrei che ciascuno di noi oggi potesse rinnovare la sua fede in dio nel dio della vita con il dio della morte un dio che è venuto nelle nostre zone di morte a portarci vita le zone del peccato ma anche quella morte fisica ecco allora vi auguro di vivere una santa giornata proprio con quest'amore grande a dio per il signore perché lui ci ha liberato dalla morte e ci ha dato la possibilità di vivere proprio in una gioia eterna non dobbiamo pensare solo all'alito ma poi dobbiamo invece pensare all'alite perché il signore ci tiene stretti a sé in maniera indistrubile questo già è successo fin dal giorno del nostro battesimo e ne dobbiamo fare memoria vi auguro una santa buona giornata oggi domenica quindi pertanto mi raccomando anche il vostro mangiare tovaglia purita sistemate bene tutto vivete quella gioia che è della domenica del cristo risorto io oggi non so di preciso cosa cucinerò ma sono sicuro di mangiare come dolce la panna cotta che a me piace tanto va bene quindi vi auguro una santa domenica un abbraccio caloroso e ci vediamo domani per il solito appuntamento domani mattina a presto